ciao a tutti ragazzi qui vi, Miki sama è il vostro povero youtube di quartiere e oggi faremo un nuovo new dojutsu disegneremo saturo gojo di jujutsu kaisen allora io mi son trovato nel cassetto questo coso rosso e questo coso blu ora io non mi ricordo da dove sbucano queste cose cioè sinceramente non so cosa ho comprato cosa dove sbucano quindi però una cosa sono certo che questi mi saranno per fare il disegno 3d allora andremo utilizzare la giotto che colori pastello di buona qualità carandash che sono ancora di più buona qualità poi questi pennarelli sono dei misto penna pennarelli che ci sta adesso sono anche un po base d'acqua adesso vediamo non mi ricordo bene questi li ho presi a 5 neanche 5 euro 3 euro se non sbaglio a ferrara col visconte che li ho usati per per colorare il manga che sono scrausi anche un po e poi due penne rossa e blu vediamo qual è il migliore per fare ciò che devo fare allora quello più ottimale guardato con questi sembra quello con la penna quindi procederemo con la penna vedete ho fatto tutte le prose penso che procederemo con la penna la penna vedete ho fatto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti